Foggia, una persona è morta, e alcune persone sono rimaste ferite, in maniera lieve, in uno scontro avvenuto tra un pullman di linea delle ferrovie del Gargano ed un'automobile. L'incidente stradale è avvenuto a San Giovanni Rotondo, dove il mezzo delle ferrovie del Gargano è rimasto coinvolto in un violento impatto con un'autovettura, lungo la provinciale 45, a circa 3 chilometri dallo svincolo per la città di San Pio. L'incidente è costato la vita al conducente dell'auto, una Opel Astra, morto sul colpo. La vittima è Michele Pio Perrella, 39enne Foggiano, operatore sociosanitario nel centro di riabilitazione e gli angeli di padre Pio. Aveva terminato da poco il turno di notte, e stava rientrando a casa, a Foggia. Secondo la ricostruzione fornita dalla Società Ferrovie del Gargano, l'autobus, in servizio sulla tratta Cerignola-San Giovanni, si è scontrato con l'autovettura che procedeva nel senso opposto che avrebbe invaso la corsia del pullman. L'impatto è stato inevitabile. Nulla da fare per il conducente dell'auto, illeso quello del bus. Hanno riportato, invece, lievi ferite, tutte contusioni, con pochi giorni di prognosi, una di decina di passeggeri del pullman di linea, soccorsi dai vigili del fuoco, e dal personale di ferrovie del Gargano e medicati dal personale del 118. Sulle dinamiche dell'incidente, invece, indagano i carabinieri.